All'elementare facevo judo, sono stata vittima di bullismo ed ero un po' più grassa di quello che sono adesso. Adesso non faccio più nessuno sport a causa di quello che mi è successo all'epoca. Prendere in giro una ragazza per il suo peso, ma se una ragazza fa sport è perché gli piace, secondo me non si deve arrivare a tanto, fino a fargli smettere di fare quello sport. Erano anche un po' più grandi, due anni più grandi di me, quindi si sono sentiti in potere di prendere di mira una ragazza più piccola e più grassa, perché le ragazze, come ero io, un pochino più grasse, sono molto insicure, quindi sono anche molto più fragili da quel punto di vista. Allora, voi sapete che noi oggi abbiamo degli ospiti speciali, allora invitiamo Maren Brinke e Laura Saccomani. Penso che questo evento sia stato importante per noi e per i ragazzi, bisogna sempre trovare un punto di incontro fra lo sport e la vita comune. Per i giovani che erano qua è un evento molto importante, perché si deve imparare a usare i social network. Sono due parole completamente diverse, sport e bullismo. Bisognerebbe proprio giocare a sport per imparare a non essere dei bull, insomma. Grazie. 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 Grazie.